Benvenuti alla società di scuola di cupid! Il nostro obiettivo è di trainare gli agenti perfetti che connettono i amici. Sono così affascinati, non li? Ssss! Scusa! Hmm... Tutto cupid è trainato senza un inizio di errore. Quando ti fai, non be a chicken. Winner, winner, chicken dinner! Hurry up! You're late for the exam! Hmm... Looks like he didn't bring his pen! And remember, every angel always has to keep them pure and clean as heaven. We help you to use various tools. Lucky you! Most importantly, brace yourself for the worst and... You know the rest. preciso diSDU Masterlasse... se somewhere è la tecnologia. Treintò il resto del nostro territorio è acаяllare le ragazze...